La prima corsa è partita il 31 dicembre scorso, ma la nuova tratta della linea 1, che in 33 minuti collega Piscinola a Garibaldi, ha già fatto registrare un incremento del 25% del flusso di passeggeri. Sono circa 125.000 al giorno gli utenti del circuito ANM, che potrebbero aumentare notevolmente, se funzionassero con regolarità, anche i collegamenti con la provincia gestiti da Trenitalia e dalla Circunvesuviana. Con un'attesa media di 8 minuti, la linea diretta da Piscinola termina a Piazza Garibaldi, stazione preferita dal pubblico dei viaggiatori, in quanto considerata uno snodo strategico per la mobilità cittadina. Numeri da record per la stazione Toledo, che ha registrato in un solo mese un vertiginoso incremento di passeggeri, passando da 1.500 a 9.000 accessi, e che si conferma una delle stazioni d'arte tra le più belle d'Europa.